Tempo fa, ai tempi dei documentari su Voyager, su Atlantide in Sardegna, della presentazione del suo libro Onfalos e della sua ricerca sullo tsunami, Sergio Frau organizzò una riunione di storici all'Accademia dei Lincei a Roma, trovate tutti i trailer di quel tempo nella playlist Atlantide in Alsara e la geologia interglaciale, che stabilirono che nei tempi antichi, ai tempi di Platone, le colonne d'Ercole si pensava fossero in una zona vicina nel canale del Mediterraneo. Quindi attenzione, bisogna fare una premessa, non è che questi storici si sono riuniti per dire dove erano le colonne d'Ercole, ma dove i greci, gli abitanti del Mediterraneo di quel tempo, pensavano fossero le colonne d'Ercole. Quindi andiamo a vedere, a ficcare un po' il naso, se questa loro conclusione è corretta oppure no. Quindi la fonte primaria in questo periodo, intorno al 400 a.C., 450, adesso non mi ricordo la data esatta, era Ersino Senz'altro Erodoto, che parlò dell'Africa o della Libia, come lui la chiamava, e vorremmo porre l'attenzione su una prima faccenda, la faccenda che lui narrasse una storia che aveva raccolto, per cui gli argonauti Giasone, greci, volevano fare il periplo del Peloponneso in Grecia, ma furono colti da correnti e si arenarono nelle secche del lago Tritonide. Ora, in questa storia c'è qualcosa che non funziona. Cioè come fa uno viaggiando per nave, per mare, a finire in un lago. Quindi vediamo cosa ci racconta questa leggenda, che questi argonauti erano degli esploratori, volevano fare il giro del Peloponneso, una regione della Grecia, invece finirono dentro un lago. Certo, o volavano, oppure c'è qualcosa che non quadra. A risolvere questo problema provvede Diodoro Siculo, che dichiara che c'è questo lago Tritonide, ma c'erano delle barriere che lo separavano dal mare, e a un certo punto, a causa di terremoti, queste barriere furono rotte, versando le acque nello stretto canale che separa l'Atlantide del continente africano. E qui cominciano i problemi, a voler collocare questo racconto nelle colonne d'Ercole, perché se Atlantide era oltre le colonne d'Ercole, la situazione rappresenta che ci fosse un lago Tritonide nelle vicinanze di Gibraltar. Uno stretto canale, quindi che Atlantide fosse molto vicino all'Africa, quindi ci fosse uno stretto canale, e che quindi questo lago Tritonide si è riversato in questo stretto canale. A me pare che questa storia collocata qui non abbia alcun senso, mentre invece anche questo viaggio degli argonauti pare abbastanza improbabile che a causa di una folata di vento siano finiti a Gibraltar. Invece ha molto senso, quindi entriamo proprio che si comincia a capire che questi luoghi, per questi geografi, autori storici, erano in un posto più vicino. Quindi l'idea che appare di buon senso è che loro pensassero che Atlantide fosse il Nord Africa e che ci fosse quindi un mare interno, che loro chiamavano Atlantico, e questo lago di Tritone è che quindi abbia riversato le sue acque in questo stretto canale, che è un canale che esista ancora, che collega delle depressioni che ci sono all'interno della Libia, che tecnicamente possono comunicare col Mediterraneo, solo che a causa della scarsità di acqua sono degli acquitrini pressoché non navigabili, navigabili solo in parte. Quindi ai tempi di Deodoro Sicolo probabilmente questi acquitrini erano di dimensioni maggiori e probabilmente lui riteneva che fosse il mare Atlantico e quindi la situazione fosse questa. Ma a questo punto subentra un'altra stranezza che vediamo che l'autore che riporta le storie di Erodoto mette dei grossi punti interrogativi. Cioè Erodoto dice che tra le colonne d'Ercole e Tebbe, quindi in Egitto, c'era un ciglione sabbioso. Ora, definire tutto il Nord Africa un ciglione sabbioso, quindi puoi pensare che Erodoto avesse una prospettiva così chiara di cosa ci fosse dall'Egitto fino a Gibilterra appare una cosa poco credibile. Quindi in realtà questo ciglione appare molto più concreto si è portato in una zona tra l'Egitto e la Cirenaica. Quindi questo girone di sabbia sarebbe questa parte dell'Egitto e quindi questo lago Tritonide sarebbe all'interno e quindi le colonne d'Ercole sarebbero questo passaggio che si è aperto il lago Tritonide quando si è sversato nel Mediterraneo. Quindi una panoramica un po' diversa ma appare chiaro che Erodoto chiamava questa zona che ai suoi tempi appare evidente che questo lago c'era e quindi lui descrive tutte le popolazioni che vivevano intorno a questo lago quindi a partire dall'Egitto fino al lago su questo ciglione fino alle colonne d'Ercole e anche oltre. Quindi lui queste popolazioni vediamo che comincia a illustrarle e racconta che avevano delle case di sale che quindi non pioveva mai con certezza altrimenti lui fa presente come facevano a vivere in case di sabbia e questi depositi ci sono e sono proprio il residuo di questo lago quindi questo lago evaporando ha lasciato una grossa quantità di sale. Ma siamo stati curiosi a vedere se effettivamente questo passaggio esiste cioè se quindi questo ciglione quindi lui Erodoto dice che il ciglione continua anche dopo le colonne d'Ercole in effetti è vero quindi c'è questo buco che separa il ciglione prima di questo varco e infatti questo è il profilo verticale di questa zona si vede che proprio c'è un varco che arriva fino a quota sul livello del mare a differenza delle altre zone della Cirenaica che invece hanno una sorta di barriera ancora esiste quindi abbiamo approfondito abbiamo osservato se effettivamente questo sversamento ha lasciato traccia noi riteniamo che abbia lasciato traccia sia come erosione del litorale qui vediamo che c'è questo specchio divano che si si addentra che può essere stato prodotto dall'erosione di questa sarebbe stata un'enorme quantità d'acqua che si è riversata nel Mediterraneo e quindi parte anche un'indagine per capire se c'è stato uno tsunami se può essere quello tsunami del settecento avanti Cristo che noi qui osserviamo sulle fiumare Calabre e poi ho cominciato a osservare il linguaggio della sabbia cioè quindi abbiamo visto che la sabbia che deve essere interpretata come fondale marino basso fondale poi in realtà in alcuni punti scompare scompare perché abbiamo capito che è trasportata verso mare da questi grossi flussi che quindi sono una specie di corrente che quindi ripulisce il fondo del lago in questo caso e quindi anche la storia degli argonauti diventa credibile cioè quindi sarebbero stati deviati e la loro rotta si sono ritrovati dentro queste attraverso queste colonne d'Ercole sono entrati nei 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 bassofondi del lago di Tritonide lago di Tritonide che dopo questo svuotamento è diventato di meno profondo quindi di un basso fondo ma comunque esistente e testimoniato da Erodoto quindi vi consiglio di andare a leggere a rileggere perché sicuramente tutti di voi hanno letto questo questo paragrafo di Erodoto le storie libro quarto e andrete a vedere che non raccontava storie ha descritto una situazione che esisteva a quei tempi di popolazione che vivevano tutti intorno a questo lago da questa parte dal lato opposto pensavano ci fossero gli Atlanti e altre situazioni che poi magari leggeremo in un altro video se avrete voglia ciao a tutti al prossimo video